Amici fantallenatori bentornati da Carmi Special, siamo con un video molto importante perché andiamo a parlare di 5 insegnamenti di questo fantacalcio per il futuro ma attenzione che tutto ciò che è accaduto in questa stagione non è detto si vada a ripetere nelle prossime quindi cercheremo di semplicemente sbatterci un po' in faccia ecco la realtà, quello che è accaduto in questa stagione alcuni punti interessanti semplicemente per poi poter analizzare meglio quello che potrebbe accadere di nuovo in futuro ma come detto non è scontato che riaccada, attenzione poi una cosa che ci tengo a dire, prossima settimana ci saranno approfondimenti anche a livello statistico perché aspetto che si conclude il campionato con Atalanta Fiorentina per avere tutti i dati totali, complessivi e potervi dare qualche dato interessante su alcuni aspetti quindi mi raccomando non vi perdete i prossimi contenuti anche sui social, se ne pubblico qualcuno anche lì seguitemi anche su Instagram soprattutto andiamo a vedere le slide che vi ho preparato, le famose slide di Carmi Special vediamo un pochettino che punti vi ho voluto sottolineare voi scrivetemi ovviamente nei commenti altri insegnamenti che avete avuto potrei fare anche un altro episodio perché di insegnamenti magari ce ne sono diversi ad esempio vi voglio portare un tema riguardante il mantra categoria di fan da calcio, modalità di fan da calcio che secondo me in questi tempi è la migliore a livello di come dire poca influenza, di problemi insomma quindi occhio magari ne parleremo di sicuro quest'estate però magari ci sarà un video apposito parliamo del primo punto ragazzi che è il calendario contro i fan da allenatori di che cosa si tratta? Ormai praticamente si schiera spesso di venerdì per partite che si giocano la domenica e lunedì quindi quando parlo di calendario soprattutto parlo della disposizione delle partite all'interno della stessa giornata e della stessa settimana quindi questa cosa ormai complica troppo la vita ai fan da allenatori che stanno impazzendo per schierare la formazione quindi ormai c'è un calendario praticamente solo in funzione dei diritti televisivi cioè hanno l'opportunità di piazzare partite a destra e sinistra solo per fare più visualizzazioni, per fare più spettatori alla partita lo fanno ragazzi, ovviamente non penseranno mai a chi fa il fan da calcio figuriamoci, è normale però per noi chiaramente è un problema quindi dobbiamo assolutamente considerare questa direzione che sta prendendo il calcio ok? Mi raccomando lo schieramento di venerdì appunto per partite lunedì è troppo complicato questa cosa di anno in anno si evidenzia sempre di più soprattutto legato anche ad altri aspetti come gli allenatori che fanno a volte turnover di massa oppure turnover inaspettati cioè scelte di formazione non previste soprattutto al venerdì per partite che sono comunque la domenica o addirittura il lunedì ok? Troppo complicato per i fan d'allenatori prevedere tutto partite rinviate, attenzione anche per lutti e situazioni spinose ovviamente casi di malattie o di problemi fisici in campo abbiamo visto la partita sospesa ad esempio nel caso di Udinese-Roma oppure il lutto giustamente per la Fiorentina e la partita poi spostata attenzione che è vero che sono casi isolati ma sono comunque casi da tenere in considerazione perché come detto vanno ad influire in ogni caso il fantacalcio quindi avere sempre un regolamento che tenga in considerazione queste situazioni di rinvio, di sospensione delle partite è importante ok? Quindi quest'anno ad esempio nel mio regolamento non c'era nel regolamento eserito qualcosa riguardante la sospensione della partita probabilmente andrò ad accorgere anche lì a correggere un po' il regolamento per includere anche quel tipo di situazioni quindi occhio anche a questo discorso e poi quindi ci sono delle regole da applicare a riguardo che possono essere dal semplice cambio modulo ok? Che molti ancora non utilizzano dalla riserva d'ufficio per determinate situazioni il classico paracadute come lo chiamo io per i rinvii delle partite che è una soluzione ragazzi che ho potuto testare quest'anno e che si è rivelata vincente e quindi vi ribadisco occhio a questo discorso ne parleremo poi in un video apposito sul regolamento è una regola che approvo assolutamente forse sono stato uno dei pochi se non l'unico a spingervi questa regola ad applicarla nelle mie leghe e vi assicuro che è una soluzione vincente per tutte le categorie e tipologie di fan da calcio passiamo al secondo punto che sono i difensori da mod ho analizzato un pochettino la lista di difensori da modificatore poi ci saranno dei contenuti in merito specifico sulle statistiche oggi parlo semplicemente di quello che questa stagione così anche a caldo ci può aver dato come vibes come sensazioni innanzitutto la quantità di difensori da modificatore è discretamente buona ho analizzato la quantità siamo sempre intorno alla quarantina per partite giocate intorno al numero 20 ok io considero almeno 20 partite giocate e siamo lì con la media del voto intorno al 6 però attenzione che ci sono tanti giocatori che giocano una partita ma non è detto che prenda nel voto quindi bisogna sempre un po' differenziare la cosa e dobbiamo anche dire che quest'anno la titolarità è stata molto compromessa da tanti infortuni in difesa è sparito Smalling sono spariti diversi nomi che chiaramente erano stati acquistati anche per il modificatore e che a causa infortuni vedi Schurz stagione finita insomma anche lo stesso Posh è stato un po' assente gli infortuni hanno influenzato parecchio il numero di partite giocate soprattutto di alcuni nomi da modificatore questo calo importante di rendimento e sicurezza dei top cosa si intende ragazzi? che come vi ho sempre cercato di consigliarvi spesso sono quei semi top e terza fascia a rendere bene anche in ottica modificatore mentre nei top quella spesa non è detto che sia stata poi ricompensata diciamo ok e così è stato quest'anno tra i top ci sono stati tanti flop come Di Lorenzo che è un po' calato nel rendimento ma anche i vari Tomori è stato buono per i gol fatti ma anche lui è stato un po' assente per infortunio e a ciacchi valutiamo sempre chi disturba e poi anche altri nomi i romagnoli, i racmani ci sono stati diversi nomi che effettivamente hanno avuto un ribasso anche dal punto di vista del rendimento oltre che della sicurezza terza fascia come detto li ho citati poco fa sono stati i migliori per qualità prezzo ora attenzione come detto non è detto che nei prossimi anni sarà sempre così cioè che tutti i top di modificatore alla smalling eccetera flopperanno perché alcune situazioni sono state a causa di infortunio come detto quindi occhio però una costante di questi anni è che effettivamente i semi top e terza fascia spesso hanno almeno soddisfatto i fantallenatori in termini di acquisto non tutti attenzione perché tra i semi top c'erano anche i vari non so Bucker Martin potenziali ecco semi top però che poi non hanno reso bene ok per quanto riguarda invece il calo dei bomber allora questo è un tema caldissimo ragazzi e che sposta tanto che potrebbe spostare ancora di più le prossime aste perché perché chiaramente per calo dei bomber si intende il fatto che non ci siano più tanti nomi che raggiungono non so gli a 20 e 15 gol no soprattutto questa diminuzione viene confermata nelle ultime due stagioni diciamo tre anni fa già c'erano un po' più nomi tre stagioni passate ragazzi la situazione era ben diversa però attenzione ho detto due tre anni fa non ho detto dieci quindici anni fa praticamente cos'è successo cioè siamo un po' soggetti a un bias che è legato alle ultime due stagioni due tre stagioni nelle ultime due tre stagioni ci sono stati diversi allenatori un po' conservativi un po' anche legati alla fase difensiva questo secondo me ha influito parecchio anche sul calo oltre ovviamente a delle condizioni fisiche e psichiche dei calciatori che magari immobile inizia a invecchiare chiaramente ci può stare che inizia a calare il suo rendimento quindi allora un piccolo sondo di questo tema perché se noi pensiamo che ogni anno sarà sempre peggio comunque questo calo dei bomber sarà costante ovviamente condizioneremo la nostra asta ok e ad esempio andremo più in cerca magari di centrocampisti top di fare un attacco un po' più low cost equilibrato tralasciando quei nomi che potenzialmente potrebbero fare quei 18-20-23 gol ok attenzione che però se questo non influenza troppo le dinamiche di asta va benissimo ma se questo compromette la costruzione altrui in diciamo in modo positivo nel senso che qualcuno riesce a baggare troppo l'asta potrebbe essere un problema un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che il livello qualitativo è costante negli ultimi 12-14 anni cioè molti mi vengono a dire carmi ma può essere che questo calo è dovuto al fatto che ci siano giocatori più scarsi in serie A ma ragazzi come detto tre fino a tre stagioni fa da 2020-21 per dire ok che tre anni fa quindi diciamo quarta stagione passata ormai e non è che ci fossero tutti questi campioni cioè a 20 gol ci è arrivato tipo Simi c'era comunque ancora Immobile Vlaovic ok cioè alcuni dei stessi giocatori ci sono l'unico forse era Cristiano Ronaldo che possiamo considerare fenomeno di altro livello ma tutti gli altri e anche la serie A era nel 2021 dello stesso livello di adesso ok anzi alcune squadre forse possono essere considerate di un livello superiore a quelle che c'erano nel 2021 quindi a occhio a non farci prendere troppo da questi bias la tattica secondo me è la causa principale cioè se noi abbiamo tanti allenatori che curano bene la fase offensiva in modo da sollecitare bene la punta centrale e far massimizzare il suo potenziale offensivo allora avremo diversi attaccanti con diciamo numeri importanti l'altra cosa che incide è lo stato fisico e psicologico della punta ok cioè nel senso che se chiaramente la punta centrale di una big o comunque un attaccante che inizia ad avere una certa età possiamo pronosticare immaginare che possa segnare anche meno vedi Giroud cioè io Giroud quest'anno mi aspettavo tanti gol però non è che ho pronosticato 20-25 gol ho detto secondo me potrebbe arrivare ai 18 è arrivato a 15 ha fatto una buona stagione ma comunque tanti anni ok 37-38 anni quindi capite bene che anche quello può incidere quindi vedremo come si comporrà innanzitutto il roster di allenatori ok e poi anche delle punte centrali soprattutto che ci saranno in attacco altra cosa che ci tengo a sottolineare è che tante ali offensive e seconde punte ormai sono listate anche centrocampisti vedi Gudmundson poteva essere una classica seconda punta listata attaccante invece è stato poi centrocampista ok quindi occhio ci metto anche una piccola apostilla il discorso anche rigori più i rigori vengono battuti chiaramente dai centrocampisti meno gol faranno chiaramente alcuni attaccanti ok quindi occhio anche a questo aspetto avere delle punte centrali che siano anche rigoriste è un fattore da non sottovalutare passiamo al quarto punto che è il confronto tra top centrocampisti e top attaccanti a questo punto perché? perché c'è una differenza che è diminuita tra mentre prima i top centrocampisti erano intorno al 7 come fantamedia 7.10 7.20 ok poi c'era chi ovviamente portava un po' di più mentre i top attaccanti superavano la soglia 8 di fantamedia si è un po' ridotta questa cosa i top centrocampisti molti fanno 10 12 gol e sono anche abbastanza costanti quindi mediamente la fantamedia possiamo considerare la quasi 7.2 molti portano 7.4 anche anche di più hanno portato quest'anno 7.5 7.7 addirittura e mentre quella degli attaccanti si è abbassata molto chiaramente e quindi abbiamo dei primi slot diciamo così che hanno un rendimento intorno al 7.7 7.6 addirittura 7.8 quindi quasi si possono considerare ormai top attaccanti quelli che superano la soglia del 7.7 7.8 ok quindi si è ridotta un pochettino questa differenza che prima era di un punto ok adesso è di mezzo punto ok quindi già è grossa questa differenza cosa ovviamente possiamo considerare su questo tema innanzitutto che i migliori centrocampisti comunque non sono stati nomi presi a uno quest'anno ok ho voluto sottolineare questa cosa sono stati comunque o dei possibili top come Pulisic e anche Cup Miners oppure dei semi top come erano Cialanoglu Gudmundson ok De Ketelare possiamo considerarlo una sorta di scommessa che poi a settembre si è piazzato pure lui nei semi top il rischio costante di flop tra i top c'è ancora vedi appunto Zaccagni vedi Ciuquezza vedi tanti nomi che potevano essere considerati dei top e però hanno flopato ah tra i nomi top c'è anche Orsolini ovviamente tra i flop c'è Strepezza ok poi questa riduzione occhio che è anche legata come detto sia ai rigori parlavo poco fa cioè se togliamo dei rigori attaccanti per farli calciare ai centrocampisti che possono essere Cialanoglu Gudmundson Cup Miners e così via è chiaro che andiamo a spostare Fantamedia che togliamo ad attacco e diamo a centrocampo in più anche delle ali che vengono listate centrocampo al centrocampo è chiaro che se noi abbiamo tante formazioni con tridenti quindi con ali offensive che però alcune di queste vengono listate a centrocampo anche un Pulisic poteva essere metti in caso l'estate ad esempio attaccante avremmo avuto un top di centrocampo in meno e un buon magari invece semi top d'attacco a livello di rendimento chiaro? attenzione a questo cosa l'ultimo tema sono i portieri semi top perché? perché ne parleremo chiaramente nello specifico la prossima settimana ci sarà un'analisi tramite il file excel i portieri top con percentuale di rischio in aumento hanno flopato Magnanna diciamo un po' flopato chiaramente anche Meret Verri Patricio insomma sono stati un po' diversi portieri che erano tra i big e che hanno reso sotto le aspettative mentre i semi top parlo soprattutto di Fiorentina ad esempio cioè soprattutto semi top abbinati ok la percentuale di rischio flop diciamo è in forte calo Milinkovic Savic Terraciano ma anche se consideriamo l'Atalanta carne secca e musso abbinati hanno reso decisamente bene abbinamenti quindi con calendario funzionali con semi top cioè effettivamente se i pacchetti migliori studiati per appunto difficoltà calendario hanno reso particolarmente bene ne parleremo come detto prossima settimana vi porterò i dati a riguardo costo perfetto per il rendimento ottenuto cioè se pensiamo che i top andavano al 10 11% i semi top abbinati intorno al 5 6% e hanno poi reso con rendimento praticamente simile o addirittura migliore dei top praticamente quel 5% addirittura alcuni 4% massimo 6% è stato un prezzo veramente buono per poi il rendimento che hanno avuto quindi quest'anno è stato così ma anche gli scorsi anni effettivamente il semi top abbinato ha dato soddisfazioni quindi chissà che non sia un trend costante ovviamente dipende sempre dal prezzo all'asta e anche dai nomi che andate a scegliere dall'abbinamento che andate a comporre passiamo no passiamo passiamo alle vostre quindi analisi nei commenti ditemi cosa ne pensate di questi 5 insegnamenti ovviamente ci saranno come degli approfondimenti anche a livello statistico nei prossimi video quindi mi raccomando seguite il canale per non perdervi nulla va bene detto ciò sono curioso di leggere i vostri pareri nei commenti un saluto da Carmi Special alla prossima ciao